e ora il giorno sono tutti contenti si vede che il ballo è piaciuto e deve ancora arrivare il meglio suggerisci il prossimo qualcosa di ok un classico dolce e divertente il pubblico è in delirio ogni pezzo è un successo eh sì siamo come una gallina dalle uova d'oro io le preferisco di cioccolato sei il solito golosone però hai ragione che acquolina che bontà saranno attenti alla carri e bisogna sapersi limitare accidenti hai dato il meglio di te stessa cerco di accontentare il pubblico che a volte chiede la luna e noi gliela diamo e ora un pezzo leggendario sì spaziale sei la nostra stella testi non senti anche tu una puzza bestiale già c'è qualcuno che è in guerra col sapore io so chi è vediamo chi indovina io direi che ha due baffi e quattro zampe è impossibile sbagliare ha denti gialli e i piedi neri uno talmente fetentone che gli hanno fatto una canzone ragazzi vogliamo continuare forse con una bella romanza io propongo qualcosa di molto allegro sì sì sono d'accordo sazi vai drami con le bacchette sei un'aquila oh beh mi piace un sacco a me sembra piuttosto una cornacchia col singhiozzo drami non stare ad ascoltarlo è un vero orso vado ragazzi non faccio certo il coniglio ehi amici facciamo una tournea al polo nord boh lì fa freddo geleremo ah sento c'hai i brividi io comunque ho un bel cappotto testi mi hai dato un'idea sì anche a me allora che cosa si fa? possiamo riscaldarci con il ballo delle civette se andiamo avanti così su di noi scriveranno un libro beh non ce n'è bisogno di libri è pieno il mondo leggere è mitico sazi un libro fa sognare ad occhi aperti lo apri e comincia l'avventura ragazzi indovinate di cosa parla il prossimo pezzo di un orango? di un topolino basta diccelo tu la conoscete? la storia di Noè? certo quella del diluvio universale già c'è anche una canzone sì la suoniamo? ma sì do io l'attacco pronti? e ora cambiamo genere facciamo un pezzo esotico sì dai qualcosa di caldo ne ho in mente uno su milo quello mi piace sì d'accordo a un ritmo niente male sì parte venite tutti dietro a me ehi Itty hai già in mente qualche idea? ricordate quella storia sul romarro? oh sì davvero divertente una cosa pazzesca beh allora perché non la cantiamo? sì sì geniale l'hai pensato bella è è è è è è Grazie a tutti.